Musica Ciao ragazzi, benvenuti in questa nuova puntata della Computer Museum In questa puntata andremo a fare l'unboxing del Rode VideoMic Perché dopo tantissimo tempo siamo riusciti finalmente ad acquistarlo alla Musica Studio Sito che si trova su internet e che vende veramente prodotti di ottima qualità a prezzi veramente molto bassi Infatti questo Rode l'avevamo visto al Media World a circa 139 o qualcosa del genere Invece la Musica Studio come prezzo scontato lo vendono a 99€ Ora, innanzitutto a cos'è che serve questo microfono? Serve per essere agganciato a una reflex oppure una videocamera con audio integrato Come sapete le reflex non è che abbiano un microfono chissà che Infatti di solito le reflex di medio prezzo, soprattutto Canon e non Nikon Hanno un attacco esterno per il microfono Quindi di conseguenza ci permettono di collegare fonti esterne E di conseguenza i VideoMic che in questo caso andrà a collegarsi su una videocamera e non su una reflex Sarà perfetto per migliorare appunto il vostro audio Ora, il pacco devo dire che è veramente fatto molto bene Ci mostra anche addirittura un'immagine di come deve essere agganciato Ma è praticamente pronto all'uso Esisteva anche il microfono Rode Go Che era praticamente una sorta di pelo nero Chiamiamolo così e basta tutto in uno Che praticamente non era autoalimentato Ma doveva alimentarlo la telecamera In questo caso io ho scelto questo qui che si autoalimenta da solo Ora, andiamo ad aprire la nostra confezione E andiamo a vedere il nostro microfono Beh, devo dire che innanzitutto la confezione è veramente ottima Vediamo, vediamolo Beh, devo dire che è veramente molto bello Infatti come vedete c'è addirittura un passacavo Che così non ci permette di rompersi magari Oppure tirarlo malamente e rompere la saldatura o altro Quindi è veramente fatto molto bene Qui ci va una batteria a 9V Che possiamo mettere anche dopo Poi c'è l'alimentazione con normale e amplificato Attraverso questo interruttorino Cioè è veramente molto semplice come microfono E' veramente molto ottimo Va bene ragazzi Ci vediamo in un prossimo episodio Che andremo a fare un test audio di questo microfono Per il resto da computer musica è tutto Ci vediamo appunto alla prossima puntata Grazie a tutti